Musica Denunciati due noleggiatori per occupazione abusiva della spiaggia. Operazione congiunta di Carabinieri e Guardia Costiera a Fetovaia. Due militari si sono finti bagnanti e sono stati allontanati da una zona di arenile che non faceva parte della concessione ma era di uso pubblico. Interventi della polizia contro abusivismo e droghe. Sequestri a Portoferraio, in Viale Tesei e a Leghiaie e a Marciana Marina. Operazioni anche contro la vendita illegale di prodotti commerciali. Elba il VIP spunta dietro l'angolo, quando meno te lo aspetti. Paolo Belli sorpreso in bicicletta a Marciana Marina. Gli avventori del ristoro agricolo di Monte Fabrello si sono visti arrivare Andrea Bocelli e Biagio Antonacci. Tutto pronto per Gente di Mare, il festival per Giancarlo Bigazzi. Il concorso si svolgerà lunedì 17 agosto in Piazza Cavour a Portoferraio insieme a uno spettacolo dedicato al grande compositore scomparso. Le selezioni fatte dal maestro Marco Falagiani. Buonasera cari telespettatori e ben ritrovati all'appuntamento quotidiano, l'ultimo prima del Ferragosto, con l'informazione e le notizie del nostro telegiornale. Incrociando le dita per il tempo, perché al momento di andare in registrazione il meteo viene annunciato come piuttosto a rischio per la giornata di Ferragosto, iniziamo a parlare però di cronaca, perché ci sono state delle operazioni molto importanti e per un certo verso rassicuranti da parte delle forze dell'ordine. La prima sulla spiaggia di Fetovaya. Sentiamo cosa è successo. Un ragazzo e una ragazza, due asciugamani, un ombrellone. La spiaggia è quella di Fetovaya, forse la più in dell'Isola d'Elba. Solo parcheggi a pagamento, impossibile trovare posto nei pochi posti liberi a ridosso dell'arenile. In spiaggia la stessa musica, praticamente all'80% occupata da concessioni, forse anche troppo. Insospettiti proprio da questo, capitaneria e carabinieri hanno intensificato i loro controlli alla vigilia del Ferragosto. Ed ecco che entrano in scena i due ragazzi di qui sopra, che in realtà sono un carabiniere e un militare della guardia costiera. I giovani piazzano i loro asciugamani e l'ombrellone in un tratto di spiaggia libera, ma vengono insistentemente invitati da due noleggiatori di attrezzature balneari ad allontanarsi da lì asserendo che quella zona era riservata ai loro clienti. I militari a quel punto si qualificano verificando che il tratto di spiaggia dove si trovavano era sì stato occupato con ombrelloni e sdraio fin dalle prime ore della mattina, ma in realtà non faceva parte della concessione demaniale rilasciata ad una società di noleggio di attrezzature balneari dal comune di Camponell'Elba. Le due persone sono state quindi denunciate all'autorità giudiziaria per aver impedito l'uso pubblico dell'arenile. I controlli, fanno sapere, le forze dell'ordine continueranno per tutte le spiagge elbane, con particolare riguardo a quelle maggiormente frequentate dai bagnanti. Altri tipi di controlli molto importanti sono stati messi a segno con successo dalla Polizia di Stato. Sentiamo di cosa si tratta. Diverse segnalazioni per possesso di sostanze stupefacenti e multe per commercio abusivo. Questi i risultati delle attività di controllo da parte degli uomini del Commissariato di Polizia di Portoferraio per la sicurezza dei cittadini e degli ospiti dell'isola. Servizi rinforzati in questi giorni anche in considerazione dei numerosi eventi nei paesi elbani. La notte dell'8 agosto, gli uomini della sezione anticrimine hanno controllato due ragazzi in Via Nince a Portoferraio che alla vista dei poliziotti cercavano di allontanarsi. I due venivano controllati e i sospetti venivano riscontrati dal rinvenimento in una busta di tabacco di circa 10 grammi di hashish. Pertanto TD, 19 anni, e GJ, 19 anni, entrambi residenti a Milano, sono stati segnalati alla prefettura. Nel corso della stessa notte, un discreto e mirato appostamento ha permesso di identificare e controllare nei giardini delle ghiaie un utrito gruppo di giovani pregiudicati per reati concernenti sostanze stupefacenti. Durante il controllo, un ragazzo di PM, 22 anni, di Portoferraio, cercava di occultare all'interno dei pantaloni un involucro che successivamente risultava contenere alcuni grammi di marijuana. Anche per il giovane è scattato il deferimento all'autorità amministrativa e il sequestro dello stupefacente. Sempre nei giorni scorsi, in Viale Tesei, veniva trovato con modica quantità di hashish, CJ, 28 anni, di Portoferraio e segnalato alla prefettura. A Marciana Marina, gli uomini della volante, a seguito di movimenti di dubbia natura, hanno controllato due giovani in Vialdo Moro, i quali spontaneamente consegnavano un involucro contenente circa 10 grammi di marijuana. Analoga sorte, è toccata un cittadino marocchino controllato a capoliberi, il quale occultava sostanze e risultate positive al narcotest e quindi segnalato alla prefettura. L'attività di polizia è stata ammirata anche all'abusivismo, altro destabilizzante fenomeno estivo che desta allarme sociale di non poca rilevanza. I servizi specifici, organizzati in strettissima sinergia con la polizia municipale di Portoferraio, hanno consentito di contestare verbali di commercio abusivo su aree pubbliche a cittadini nigeriani e senegalesi con il pertinente sequestro di un vero e proprio negozio ambulante, costituito da cappelli, giochi da spiaggia, prendisole, occhiali, accendini. I luoghi in cui sono stati conseguiti questi risultati sono la spiaggia della Biodola e Viale Teseo a Portoferraio. E adesso parliamo del lato bello del Ferragosto, un Ferragosto pieno di gente, ma in mezzo alla gente ci sono anche tanti VIP che come al solito scelgono l'Elba come loro buon ritiro. Alcuni di loro sono affezionatissimi dalle nostre parti, quasi residenti come Biagio Antonacci, ma insieme a lui spuntano molto spesso star del calibro di Andrea Bocelli e non è difficile trovare per strada un ciclista e guardando bene sotto il caschetto e sopra la bicicletta scopriamo che si tratta di Paolo Belli. Andiamo a vedere. Il VIP spunta dietro l'angolo quando meno te lo aspetti all'Isola d'Elba. In questi giorni di tutto esaurito a cavallo del Ferragosto sono in molti personaggi celebri ad avere scelto l'isola per trascorrere qualche momento di relax, tra uno spettacolo e l'altro. È il caso di Paolo Belli che dopo il concerto di Marciana Marina è tornato sull'isola per due altri concerti in due delle strutture alberghiere più prestigiose ed ha approfittato per fare un giro in bici sotto questo sole, come avrebbe detto lui stesso, nei pressi di Marciana Marina. Paolo si è poi fermato sulla curva all'ingresso del paese per un selfie che ha poi postato su Facebook, evidentemente orgoglioso di mostrare di poter fare sport in un contesto ambientale come quello dell'Elba. Una sorpresa decisamente piacevole invece è capitata agli avventori del ristoro agricolo di Monte Fabrello, uno dei locali più tipici e ricercati di tutta l'isola. Allora di cena sono arrivati Andrea Bocelli e tutta la sua famiglia, accompagnati dal broker marittimo Elbano, Mario Lanera. Pochi minuti dopo allo stesso tavolo è arrivato Biagio Antonacci, ormai Elbano per sua stessa ammissione, che era stato invitato dallo stesso Bocelli per trascorrere una serata in compagnia fra amici. Per la gioia degli avventori Andrea e Biagio non si sono negati alle foto ricordo e a selfie, come succede ogni volta in queste circostanze. Torniamo a Portoferraio ancora per parlare di spettacolo, ma stavolta in chiave misto polemica, perché ricorderete tutti le polemiche degli ultimi giorni legate alla musica nel centro stonico. Stavolta c'è un intervento abbastanza rassicurante dell'amministrazione portoferraiese che ovviamente mette in primo piano l'accoglienza per gli ospiti e quindi l'importanza della musica, ma in maniera anche conciliante con quelle che sono le esigenze degli altri cittadini. Sentiamo cosa ha detto ai nostri microfoni il Vice Sindaco Roberto Marino. Desidero fare per conto dell'amministrazione un chiarimento, perché abbiamo letto sulla stampa diverse considerazioni riguardo all'attività tra le mura del centro storico e comunque l'attività che riguardano quest'estate portoferraiese. Il distinguo sta in questo, che ci sono le attività poste in campo dal Comune di Portoferraio, che sono dei concerti musicali e altri tipi di attività, che sono state regolamentate per quest'estate dal Sindaco di Portoferraio con un decreto sindacale che prevede che durante i giorni feriali si possano portare avanti queste attività sino a mezzanotte e mezzo. Per i giorni prefestivi, come il sabato, si possa arrivare fino a luna. Quindi questi sono gli orari che con decreto sindacale sono stati stabiliti e riguardano esclusivamente le attività poste in essere dall'amministrazione comunale di Portoferraio. E questo è il decreto del Sindaco di Portoferraio. Altra cosa è l'attività musicale svolta da singoli esercenti. Per quello c'è una normativa precisa che prevede dei limiti che devono essere rispettati. Nessuno ha fatto deroghe a questa normativa perché non si possono fare. E quindi in relazione alle lamentere che sono provenute dai cittadini e da chiunque si è ritenuto l'eso in certi momenti da alcuni eccessi noi abbiamo risposto tramite il nostro comando di Polizia Municipale intimando alle attività di attenersi a ciò che è previsto nella loro licenza cioè tutte le attività che la licenza che hanno gli consente ed inoltre per quanto riguarda la musica ci sono normative precise che abbiamo detto a cui le attività si devono appunto attenere. È tutto qui. L'estate è un momento importante per Portoferraio come per tutta l'Elba. è il momento in cui l'Elba vive e chi magari vuole consumare un caffè e chi vuole bere una bibita ha piacere di sentire un po' di musica. Quindi non si può pensare a una città spenta. Deve essere una città in armonia tra i visitatori, i turisti e i residenti. Quindi il giusto equilibrio penso che possa pagare e accontentare tutti. Cambiamo argomento, parliamo di persone meno fortunate in questo ferragosto e cioè quelli che passano la loro festività dietro alle sbarre. La nomina del garante per i diritti dei detenuti degli ultimi giorni avvenuta per mano del sindaco di Portoazzurro nella persona di Nunzio Marotti ha rassicurato, rasserenato soprattutto l'ambiente con soddisfazione soprattutto per lo scopo che ha questo incarico. Sentiamo. La nomina di Nunzio Marotti, quale garante delle persone private della libertà ci riempie di grande soddisfazione sia per l'obiettivo raggiunto di vedere finalmente istituita tale figura anche presso il carcere elbano sia per la scelta dell'amico Nunzio, socio e fondatore della nostra associazione. A parlare l'associazione Dialogo, da anni impegnata nel volontariato nel carcere elbano. Crediamo, commentano, che la decisione del comune di Portoazzurro possa rappresentare un momento di svolta per la nostra casa di reclusione unitamente alla nomina, dopo molto tempo, di un direttore destinato a restare in questa sede per un periodo di tempo sufficiente ad effettuare una seria programmazione delle attività. Dialogo ringrazia il comune di Portoazzurro e il sindaco Luca Simoni per questa importante deliberazione e crede che questa decisione possa essere un nuovo inizio per una maggiore presa di coscienza degli enti locali e di tutta la società elbana verso la realtà carceraria e le sue problematiche. Noi, continua Dialogo, come volontari di giustizia continueremo la nostra opera all'interno e all'esterno della casa di reclusione con la consapevolezza che la strada raccompiere per la piena attuazione dei principi sanciti dall'articolo 27 della Costituzione è ancora lunga ma grazie alla decisione assunta dal comune di Portoazzurro e alle qualità di Nunzio Marotti il nostro impegno e quello di tutti i volontari che operano in carcere sarà un po' meno solitario. All'amico e socio Marotti giunga l'augurio di buon lavoro di tutti gli operatori volontari dell'Associazione Dialogo. Le feste continuano anche dopo il Ferragosto. A Portoferraio c'è fermento e interesse intorno a quella che sarà Gente di Mare. Una rassegna, spettacolo, festival, un misto di cose molto interessanti nel nome di Giancarlo Bigazzi un grande compositore scomparso pochi anni fa che era, e non tutti lo sanno, molto legato all'Isola d'Elba. Nel servizio. Non si ferma a Ferragosto il cartellone estivo degli eventi per l'estate 2015 organizzati dal comune di Portoferraio. È tutto pronto infatti per Gente di Mare lo spettacolo festival concorso ideato e condotto da Sergio Mascagni e Marco Falagiani in memoria di Giancarlo Bigazzi, lo scomparso autore di 30 anni di canzoni di successo. La serata è prevista per lunedì 17 agosto in Piazza Cavour. Nello spettacolo, oltre alla proiezione di filmati dedicati a testimonianze delle persone che hanno accompagnato Giancarlo Bigazzi nel suo percorso artistico e di vita, ci sarà un vero e proprio festival dedicato ad interpreti locali che eseguiranno alcune delle canzoni più famose di Bigazzi. Le selezioni sono state effettuate presso la scuola musicanto Elba dal maestro Marco Falagiani, autore, compositore e collaboratore storico di Bigazzi. Io ho avuto l'onore di lavorare con lui per più di 20 anni, di scrivere con lui molti successi dal 90 a oggi, diciamo, fra i più noti, Non Amarmi, Passerà, Gli Uomini Non Cambiano, la colonna sonora del film Mediterraneo. E appunto desidero ringraziare anche il comune di Porto Ferraio e l'agenzia Scoop per aver organizzato questo evento in memoria di questo grandissimo, direi, genio della canzone. Ancora musica adesso, ma con un pizzico di orgoglio elbano, perché vi presentiamo in questo bel servizio di Andrea Rosmarie Piccariello il trailer di quello che sarà il prossimo singolo di Stefano Tanghetti, un musicista che ha le radici e il cuore nel nostro territorio. Il servizio. Parte tutto da un bambino che calcia il pallone a un adulto che lo prende e lì parte il viaggio nella memoria, da quando si era piccoli a quando da grandi si faceva musica a quando da ancora più grandi si gioca a briscola insieme al bar. Uno che ci ha fatto un regalo bellissimo è Massimo Moriconi, che è un bassista a livello italiano, internazionale, uno tra i numeri uno e ci ha regalato la parte di basso di Santi da Pregare. Il di basso che sentite nel video, nella parte iniziale, è il bassista di Mina. Tutto questo è un'amicizia, quindi mi dà ancora più soddisfazione. Questo disco qui è nato proprio con questa idea qui, che non stondiamo più gli angoli. Come sono passati tanti anni, abbiamo fatto musicalmente dei cambiamenti anche voluti e forzati perché commercialmente andava un tipo di musica invece di un altro, il risultato è sempre stato lo stesso. Questo abbiamo deciso, si nasce quadrati, non si muore rotondi, quindi si torna a fare rock come lo facevamo prima. Se ci porta lontano, bene. Se non ci porta lontano, ci siamo divertiti e abbiamo fatto quello che ci faceva. Io nel destino non ci ho mai creduto, però nella vita mi è capitato che ci sono determinati posti dove si ripresentano sempre, a distanza di anni, sempre dentro la mia vita. e qui in Piazza Alfico praticamente il chitarrista che ha prodotto anche il disco, quindi il produttore, tutti i provini sono stati fatti in casa sua, che è Luca Ansermi. Tutto nasce da Piazza Alfico perché la mia bisnonna stava al numero 4 e mio babbo, essendo figlio di ragazza madre, è vissuto con la nonna. Quindi mio babbo ha giocato a calcio in piazzetta, cioè per noi, in famiglia mia, Piazza Alfico è una piazza famosa. Siamo tornati indietro anche nel sistema di Fallischi, perché i provini erano registrati magari da me a casa con la chitarrina. Siamo andati in sala prove e li abbiamo suonati insieme, li abbiamo fatti gli arrangiamenti insieme. Quindi i provini sono nati in sala prove, sudando, guardandosi, accelerando, come si faceva il rock alla vecchia maniera. Perché doveva essere un disco rock? Il disco rock deve avere anche l'anima, non solo i suoni o l'idea. In ultima pagina del giornale delle bellissime immagini. Ce le propone, come sempre ce le racconta, in maniera impareggiabile, come sa fare lui, Carlo Gasparri, presidente della Commissione Ambiente della Fondazione Isola del Baollus, è stato in uno dei giardini più belli dell'isola d'Elba, quello di Villa Mibelli, a San Giovanni. Vediamo il servizio. Oggi ci troviamo in una casa tutta particolare. Si tratta di Villa Anna. Villa Anna che fu costruita dopo la metà dell'Ottocento dall'Avvocato Mibelli di Livorno. e si chiama Villa Anna perché il regalo alla moglie è che si chiamava Anna. Pertanto la villa è rimasta Villa Anna. Siamo venuti qui perché qui c'è il giardino all'italiana più bello forse che c'è all'Isola d'Elba, più bello perché è costruito in un modo geniale. Pensate che si passa in questo sentierino, si può cogliere delle rose, si può pulire e sistemare il giardino e non viene mai calpestato il punto dove ci sono dentro gli alberi. Pensate che tutta questa zona veniva annaffiata dall'acqua che veniva recuperata dalle piogge. E come veniva recuperata? Veniva recuperata con tutti questi canali che ci sono che poi andavano a finire attraverso una botola qui dentro questo pozzo, questo pozzo dove c'è ancora acqua oggi che serve proprio per annaffiare il giardino. Un giardino tutto funzionale in questo modo. Ma adesso andiamo dall'altra parte dove si vede l'altra parte del giardino dove c'è una magnolia che è veramente una cosa esemplare. Io non ho mai visto una magnolia così grande in mezzo a questo giardino così bello che più o meno ha la stessa caratteristica dell'altro. Dicevo, un giardino all'italiana proprio degli anni Ottocento. E qui c'è il solito pozzo come quello di là dove c'è il recupero dell'acqua e questa è la magnolia. Guardate che pianta, che bellezza che è questa pianta. È una cosa incredibile e non c'è la fioritura. Quando c'era la fioritura con tutti quei fiori bianchi era una cosa da fantascienza. Voglio farvi vedere un'altra cosa. Come cresce l'oroba in questo pozzo. Guardate questo cedro. Guardate che bellezza. Ha dei cedri che sono favolosi. Naturalmente, guardate qua sotto. Guardate questo. Guardate bellezza. Guardate che bellezza questo cedro. Ecco, questa è veramente un paradiso. Questa è l'entrata centrale perché ci sono anche altri due punti da dove si entra la casa. E da questo punto, pur essendoci questa siepe così, si può vedere dall'entrata della casa un quadro di Porto Ferraio. Cioè, qui da San Giovanni si vede bene perché la villa, come sapete, si trova a San Giovanni. E qui, proprio davanti alla villa, ci sono questi lecci enormi. Per finire, vi voglio far vedere come sono le mura intorno a questa casa. Guardate queste colonne come sono curate. È veramente una cosa meravigliosa. Io spero di farvi piacere facendovi vedere questo spettacolo perché a me è piaciuto veramente tanto. Arrivederci alla prossima puntata. Non ci sono altre notizie. Questa edizione pre-ferragostana del nostro telegiornale finisce qui. Vi ricordo, subito dopo il Tg, lo speciale Gente di Mare con una bellissima intervista a Gianna Bigazzi, la moglie dello scomparso compositore di cui parlavamo nel telegiornale, con un bellissimo cameo di un grande artista che risponde al nome di Gaetano Curreri. Vi consiglio di vederla per intero. Ne vale la pena. Grazie per la cortese. Attenzione. Buon Ferragosto a tutti voi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.